Grazie a tutti. Tutti i comuni si sono uniti, hanno unito le forze, come già è successo in questi anni, per dire basta la violenza, per dire rompiamo il muro del silenzio. 23 comuni e 23 cortei che sfileranno con un unico obiettivo, rompere il muro del silenzio attraverso la voce della comunità. Ci uniremo anche in ricordo di Giulia, ma purtroppo non c'è solo Giulia, purtroppo di Giulia ce ne sono state veramente tante quest'anno perché Giulia è la centotraesima vittima del 2023. Fiaccolato in programma già venerdì 24 novembre. A Bassano del Grappa ci sarà la fiaccolata venerdì 24 novembre alle ore 18.30. Si partirà dalla panchina rossa in Viale delle Fosse, si prosegue per Viale dei Martiri per finire Piazza Castello. Ennesimo femminicidio, ennesimo campanello d'allarme che arriva anche dai numeri del centro antiviolenza Spazio Donna. I primi giorni di novembre questa relazione sono 211. L'anno scorso erano 214 però a fine anno. Adesso stamattina ci siamo incontrati in un'equip e avevamo già 10 telefonate ferme. Quindi andremo oltre i 220 quest'anno. È aumentato il fenomeno. 221 richieste d'aiuto fino ad oggi, al momento 7 in più dell'anno precedente. E ad ogni squillo d'aiuto pronti a rispondere al telefono i centri antiviolenza del territorio, strutture che oggi si scontrano con un'intesa tra governo e regioni del 2021 sulla revisione dei requisiti minimi per l'accesso alle risorse finanziarie. C'è questa intesa che è uscita nel 2021 e che crea dei problemi a tutti i centri antiviolenza. Quindi se guardassimo bene, metà dei centri antiviolenza delle case rifugio dovrebbero chiudere. Hanno chiesto delle cose impossibili, economicamente impossibili. Quindi bisogna che le rivedano e ci diano delle cose molto più chiare.